Facciamo questa domanda a Google Bard. Ciao Bard, è vero che Google ascolta ciò che dice la gente ed usa queste informazioni per proporre delle pubblicità mirate ai singoli utenti? Vediamo cosa dice. Ascoltiamo bene. Dimmi un po'. Ciao, la risposta breve è sì. Google ascolta ciò che dice la gente e usa queste informazioni per proporre delle pubblicità mirate ai singoli utenti. Tuttavia, è importante capire come funziona questo processo e quali sono le opzioni che gli utenti hanno per proteggere la propria privacy. Google raccoglie dati sulla navigazione degli utenti attraverso i suoi prodotti e servizi, come la ricerca Google, Gmail, Maps e YouTube. Questi dati includono le pagine visitate, le ricerche effettuate, i video guardati e le app utilizzate. Google utilizza questi dati per creare un profilo degli interessi degli utenti, che poi utilizza per proporre delle pubblicità mirate. Per esempio, se un utente ha visitato il sito di un negozio di scarpe, Google potrebbe mostrargli delle pubblicità di scarpe su altri siti web che visita. Oppure, se un utente ha cercato, viaggio a Roma, Google potrebbe mostrargli delle pubblicità di hotel e voli a Roma. Google utilizza anche le informazioni raccolte tramite il microfono degli smartphone e altri dispositivi per migliorare la personalizzazione delle pubblicità. Per esempio, se un utente sta parlando di una nuova macchina, Google potrebbe mostrargli delle pubblicità di macchine su altri siti web che visita. Gli utenti hanno diverse opzioni per proteggere la propria privacy da questo tipo di raccolta dati. Per esempio, possono disattivare la cronologia di navigazione e le attività vocali e audio nelle impostazioni del proprio account Google. Possono anche utilizzare un browser web che blocca i tracker pubblicitari. Ecco alcuni consigli per proteggere la propria privacy da Google. Disattiva la cronologia di navigazione e le attività vocali e audio nelle impostazioni del tuo account Google. Utilizza un browser web che blocca i tracker pubblicitari. Non utilizzi l'assistente Google o altri prodotti Google che richiedono l'attivazione vocale. Fai attenzione alle app che installi sul tuo dispositivo. Se sei preoccupato per la tua privacy, è importante informarti sulle pratiche di raccolta dati di Google e su come proteggere i tuoi dati. Ok, ovviamente non è conveniente fare tutti questi casini e tutti questi passaggi solo per non avere delle pubblicità ammirate ai nostri interessi. Conviene lasciare tutto com'è e fregarsi a limite te ne freghi delle pubblicità e buonanotte. L'unica cosa problematica forse è il fatto che come avete sentito Bard stesso, cioè Google stessa, ammette che questa raccolta dati fatta sui singoli utenti a volte viene fatta anche dal microfono. Mentre io sto parlando, ad esempio ha fatto l'esempio, ha fatto l'esempio proprio Bard, di quando io sto parlando ad un'altra persona di una macchina. E allora Google raccoglie questa informazione di straforo tramite il microfono dello smartphone, anche se io non sto parlando con, non sto dialogando con Google o con lo smartphone, ok? Sto parlando con un'altra persona. Però Google raccoglie questa informazione di nascosto, di straforo, sotto banco e la utilizza per darmi delle pubblicità ammirate sulle macchine, ok? Sta cosa, insomma, forse non è proprio eticamente ok, perché comunque anche se la privacy te la invade e alla fine è un algoritmo, un'intelligenza artificiale, non c'è una persona che te sta a sentì. È un sistema informatico che ti ascolta. Però è comunque un'invasione, grosso modo, un'invasione della privacy. Cioè a me, francamente, non è che mi importa tanto perché comunque il fatto che mi vengano date pubblicità ammirate per me non è una cosa fastidiosa. Io semplicemente, intanto, il 90% delle volte io le pubblicità le ignoro e basta. Quindi non è che mi faccio influenzare dalla pubblicità. Però c'è a chi può dare fastidio sta cosa ed è giusto che si sollevi un problema del genere perché comunque già lo sappiamo da anni che Google fa questo tipo di raccolta dati di straforo. Quindi non è una novità. Però ultimamente con la diffusione sempre più elevata non solo degli smartphone ma anche e soprattutto dei dispositivi vocali come Alexa, voi che pensate che Alexa non ascolta di straforo? Anzi, lo fa di più rispetto a uno smartphone, lo fa in maniera più efficace rispetto a uno smartphone perché il microfono di Alexa è sempre attivo ed è sempre libero e ascolta sempre bene tutto ciò che accade nella stanza e nella casa. Mentre invece uno smartphone magari tu lo tieni in tasca e il microfono non funziona bene oppure lo tieni in stand by e in quei momenti è possibile che il telefono non registra, capito? Mentre invece Alexa registra sempre 24 ore su 24, ascolta sempre quello che diciamo e elabora ste cose e ogni tanto manda l'informazioncina. Ho visto un film di quel regista e allora il giorno dopo, qualche ora dopo, vedremo che ci vengono proposte su Google, sullo smartphone, su tanti altri modi, ci vengono proposte tutte pubblicità relative a quella cosa lì, ma guardi quel genere cinematografico, quel regista o quella cosa. Non è proprio un male male, però capite che c'è un problema di fondo, di privacy, cioè a me non me ne frega niente, perché gliene potrebbe fregare a chi è paranoico o che c'ha qualcosa da nascondere, cioè a me non mi importa, perché comunque io le pubblicità le ignoro. Però il problema c'è, questo video breve l'ho fatto per, diciamo, corroborare, come si dice, sostenere quelle ipotesi che avevo detto nel video del mistero dell'unicorno, che se ricordate avevo parlato del fatto di queste strane pubblicità che mi venivano proposte e non erano i deliri di un pazzo, semplicemente è una cosa effettiva reale, ce l'ha anche confermata Google. Sì, poi lì magari io sono andato un po' più per la tangente, ci sono stati anche dei, come si dice, delle coincidenze, perché nello stesso periodo sono state lanciate due campagne pubblicitarie con lo stesso tema, quello degli unicorni, anche più di una, forse tre o quattro, c'era anche quella di Bartolini, ricordate? Quindi una serie di coincidenze mi ha portato a pensare che ci fosse un messaggio dietro, un disegno dietro, che poi comunque mi è stato utile perché l'ho interpretato a modo mio e mi è stato utile per superare una cosa, un periodo difficile della mia vita. Quindi comunque alla fine tutto è tornato, dai. Però vabbè, allora facciamo un'altra domanda a Bard, che cosa gli altri gli vogliamo chiedere? Allora, aspettate un attimo, gli abbiamo chiesto questa cosa. Allora, chiediamo anche una cosa specifica di Alexa. A questo scopo... Vabbè, buonanotte. Scopo di raccogliere informazioni per le pubblicità, virgola. Alexa, è sempre in ascolto di ciò che dice l'utente? Punto interrogativo. Vediamo un po', eh. La risposta ovviamente credo sia sì, perché Alexa è comunque sempre in ascolto per tentare di carpire i comandi, no? Però i comandi poi li segui solo quando uno dice prima Alexa, fa Alexa e poi fa la domanda. Quindi vediamo un po' cosa dice. La risposta breve è no. Alexa non è sempre in ascolto di ciò che dice l'utente. Alexa utilizza un processo chiamato wake word detection per rilevare quando un utente pronuncia la parola chiave di attivazione, come Alexa o Hey Alexa. Quando Alexa rileva la parola chiave di attivazione, inizia a registrare l'audio e ad inviarlo ai server di Amazon. Amazon utilizza questi dati per creare un profilo degli interessi dell'utente e per proporre delle pubblicità mirate. Tuttavia, Alexa non registra l'audio tutto il tempo. Invece, registra l'audio solo quando rileva la parola chiave di attivazione. Questo significa che Alexa non registra le tue conversazioni private o le tue canzoni preferite. Amazon afferma che i dati vocali raccolti da Alexa vengono utilizzati solo per scopi pubblicitari e che non vengono condivisi con terzi. Tuttavia, alcuni esperti hanno espresso dubbi su queste affermazioni. Se sei preoccupato per la tua privacy, puoi disattivare l'uso dei dati vocali per scopi pubblicitari nelle impostazioni di Alexa. Ecco i passaggi per disattivare l'uso dei dati... Vabbè, non ci interessa. Facciamo un'ultima domanda. Quindi Google afferma che Alexa non registra tutto il tempo ma solo quando viene attivata tramite la parola chiave Alexa come avevamo accennato poco fa. Però alcuni esperti dicono che secondo loro non è vero. Sapete, esperti. Sapete che qualcuno ha notato che Google gli proponeva pubblicità riguardo cose di cui loro avevano parlato anche quando Alexa non era attiva. Quindi, insomma, può essere coincidenza può essere una balla di Google? Non si sa. Comunque, facciamogli la domanda finale sugli smartphone. Allora. Negli smartphone Android, virgola, Google registra alcune conversazioni a scopo pubblicitario? punto interrogativo. Vediamo un po' cosa dice. Guarda su sta cosa. Dirà la stessa cosa, che non è vero che Google... Però noi ci crediamo, non lo so, perché alcuni esperti dicono che forse non è così. Andiamo. La risposta breve è no. Google non registra le conversazioni degli utenti di smartphone Android a scopo pubblicitario. No. Google utilizza solo le informazioni raccolte tramite il microfono degli smartphone Android per migliorare l'esperienza dell'utente con i suoi prodotti e servizi, come l'assistente Google. Aspetta. Google utilizza un processo chiamato Wake Word Detection per rilevare quando un utente pronuncia la parola chiave di attivazione, come Ok Google o Hey Google. Allora, quindi ci ha detto la stessa cosa che ha detto riguardo Alexa. Però noi sappiamo per certo che non è così. Perché a volte Google ci propone pubblicità. Ma io sta cosa su Alexa non so, perché io Alexa non ce l'ho. Ce l'ha la Niki Alexa, io non ce l'ho Alexa. Perché non mi è sembrata una cosa utile da avere. Non serve a niente Alexa. Però per quanto riguarda gli smartphone, io sono assolutamente certo che a volte Google mi ha proposto delle pubblicità riguardo argomenti di cui io non ne ho parlato con l'assistente Google. Io l'assistente Google lo uso rarissimamente. Ogni tanto mi sentite in qualche video mentre sto a fare gameplay, ho le mani occupate a giocare con iPad, eccetera, eccetera, ai videogiochi, e quindi non posso stare a digitare. Quindi chiamo l'assistente Google e gli chiedo magari delucidazioni, informazioni su un determinato argomento che ha a che fare con il gameplay che sto giocando per avere delle informazioni. Tipo, che ne so, in Assassin's Creed compare Pico della Mirandola. Allora gli dico, gli dico, Google, assistente Google, dimmi qualcosa su Pico della Mirandola. E mentre giochiamo sentiamo la biografia di questo personaggio storico. Faccio un esempio, non è successa sta cosa in realtà in un gameplay mio, però per farvi un esempio. Sì, anche quando io non parlo con l'assistente Google, cioè mi sono state più volte proposte delle pubblicità su cose che io non avevo né cercato sul motore di ricerca, né ne avevo parlato con l'assistente Google. Ma mi sono state proposte uguali cose di cui avevo parlato magari con un'altra persona. E poi noi sappiamo che in tutti gli smartphone c'è una cache Google, una cache audio Google. E allora che c'è sta a fare la cache audio Google se non... Cioè, se sulle domande probabilmente Bard mi ha mentito in queste ultime due risposte. Perché io sono sicuro che... Anche perché ci ha detto nell'altra risposta alcuni esperti dicono che... E alcuni esperti dicono che perché se ne sono accorti. Cioè, nella vita di tutti i giorni te ne accorgi che i dispositivi Google ogni tanto ti catturano l'audio e tu è insaputa e li usano per scopi pubblicitari. Se sa. Nella prima risposta l'ha ammessa sta cosa. Nelle altre due no. La mascherata. Ma noi sappiamo che non è così. Non è complottismo. Ragazzi, basta fare due più due. Basta vedere le pubblicità che ci propone Google. A volte ci propone cose di cui non abbiamo parlato né con l'assistente né con il motore di ricerca. Ma ne stavamo magari parlando con una terza persona. Non attraverso lo smartphone. Dal vivo. E il telefono si è attivato e l'ha capita sta cosa. Ma non lo so. Può essere una coincidenza? Non lo so. Però insomma io ho l'impressione che sia così. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ragazzi per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio del zombie vlog. Ciao ragazzi alla prossima. la prossima. Ciao. Ciao.